Salve a tutti, benvenuti a questo nuovo video sono davvero contento e orgoglioso dei commenti che mi state lasciando e di quanti di voi si stanno preparando con questo materiale oggi desidero risolvere problemi di logica che mi sono stati chiesti da tanti e in particolare ho selezionato 4 esercizi che secondo me sono anche quelli più difficili tra quelli che mi avete mandato allora il primo di essi afferma questo Carlo vuole creare una successione una successione allora non diamo nulla per scontato cos'è una successione? una successione è un insieme di numeri legati da una relazione facciamo un esempio perché non va dato nulla per scontato se qualcosa non è chiaro ma soprattutto quando spiego un video è giusto che alcuni termini soprattutto i più importanti vengano ripresi ad esempio la creiamo noi adesso 1 li sommo più 2 e ottengo 3 li sommo più 3 e ottengo 6 li sommo più 4 e ottengo 10 poi qui mi dicono per esempio puntini puntini immaginate che sia questo il quiz così diciamo che oggi non ho selezionato i 4 ne facciamo 5 perché uno lo crea al momento li sommo più 5 e quindi qua la risposta è 15 abbiamo creato una successione abbiamo dato anche la risposta all'eventuale domanda quindi mi raccomando cercate di non buttarvi perché se voi avrete 4 risposte a b c d se non sapete assolutamente quale scegliere sicuramente se scegliete casualmente avete il 25% di probabilità di azzeccarla però se andate con il ragionamento al 100% l'azzeccate quindi mi raccomando la preparazione in questo senso può essere salvifica cioè non è che vi salva dalla vita o dalla morte salvifica nel senso che vi dà un valore aggiunto una probabilità in più di superare questa presa elettiva che forse sarà anche quella prova bocchettino tosta perché sarà la sentenza per coloro che potranno continuare a fare il concorso e avere opportunità di vincerlo allora Carlo vuole creare una successione sommando al numero precedente la sua metà cominciamoci subito a costruire uno schemino se il numero precedente ad esempio xn-1 poi c'ho xn xn più 1 cioè questi sono tutti i numeri che ho simbolizzato x nesimo che cosa che cos'è x nesimo devo prendere il precedente devo sommare al precedente la metà del precedente quindi sarà xn-1 più xn-1 mezzi cioè devo prendere il numero che sta esattamente prima di x con n lo devo prendere e gli devo sommare la sua metà questo mi sta dicendo banale no? se il primo valore inserito nella serie 1 quindi il primo valore inserito nella serie 1 meno 1 scusate il primo valore inserito nella serie che è meno 1 il quinto termine che segno avrà e quale sarà il suo valore? quindi trovare il quinto termine sintetizzo tanto ha lo stesso valore allora ragioniamo creiamo un modello di ragionamento parto da meno 1 benissimo che cosa devo fare a meno 1? a meno 1 devo sommare la sua metà quindi quant'è la metà di meno 1? meno un mezzo meno 1 meno un mezzo è meno tre mezzi il secondo termine della successione è stato appena trovato a meno tre mezzi devo sommare la sua metà quindi meno tre mezzi se vado a dividere tre mezzi diviso 2 ottengo meno tre quarti meno tre mezzi meno tre quarti è banale sommare questi due numeri tre mezzi lo posso vedere come sei quarti quindi meno sei quarti meno tre quarti meno sei meno tre meno nove e quattro rimane al denominatore quindi è meno nove quarti l'ho trovato il terzo termine quindi procediamo in questa maniera meno nove quarti meno nove ottavi e quindi banalmente meno ventisette ottavi quarto termine meno ventisette ottavi meno la metà devo andare a moltiplicare per due il denominatore cioè sto moltiplicando sempre per un mezzo quindi meno ventisette sedicesimi meno ventisette ottavi mi diventa equivalente a dire meno cinquantaquattro sedicesimi meno ventisette sedicesimi fa meno ottantuno sedicesimi banale questa è la risposta va bene? ok andiamo al quesito successivo allora che dice Alberto vede due fulmini cadere a poca distanza Alberto vede scrivo due col numero due fulmini cadere a poca distanza vabbè almeno così gli sembra da lontano questo poco ci interessa sapendo che la velocità del suono è 340 metri al secondo quindi ed è vero la velocità del suono è circa 340 metri al secondo è stata misurata sperimentalmente sapendo che che la velocità del suono è di 340 metri al secondo cioè in ogni per ogni secondo percorre 340 metri virgola è che i tuoni sono stati uditi dal ragazzo dopo 6 secondi e 8 secondi e che i tuoni sono stati sentiti dopo 6 secondi e 8 secondi questa è una S scusate se non è chiaro e supponendo che le distanze dei fulmini da Alberto eh sì questo era abbastanza tosto quindi cioè tosto un pochettino più difficile e sapendo supponendo che le distanze dei fulmini da Alberto e supponendo quindi che le distanze dei fulmini da Alberto possano essere immaginate complimenti a Laura che mi ha inviato questo quiz eh possono essere immaginate come cateti di un triangolo rettangolo quale sarà la distanza tra i due fulmini tra i due fulmini ok qui la cosa migliore è costruirsi un'immagine visita di quello che sta accadendo cioè se qui c'ho Alberto la persona lo mino anzi ve lo disegno pure qui c'ho Alberto nel punto A e nel punto C facciamo nel punto B ho un fulmine quindi lo disegniamo così e in C ho l'altro fulmine questo è il cateto il cateto 1 questo è il cateto 2 questa è l'ipotenusa e ci chiede la distanza tra i due fulmini quindi ci chiede il segmento BC qui in effetti è una domanda un pochettino difficile ma difficile perché? perché vi richiede la conoscenza però penso che molti di voi se la ricordano del teorema di Pitagora che dice che la somma quadratica dei due cateti è uguale all'ipotenusa al quadrato cioè I quadro l'ipotenusa al quadrato è il cateto 1 quadro più il cateto 2 quadro oppure l'ipotenusa è la radice quadrata della somma quadratica dei due cateti ok premesso questo ci dobbiamo calcolare la distanza tra il primo fulmine e Alberto la distanza tra il secondo fulmine e Alberto e a quel punto le leviamo al quadrato e ci facciamo le sommiamo e ci facciamo la radice allora banalmente quindi la distanza C1 è dato da se sono passati 3 secondi devo fare 6 secondi 340 metri al secondo per 6 secondi i secondi se ne vanno 340 per 6 quindi 3,4 per 6 e mettiamo lo prossimo circa 2 1000 2000 mettiamoci direttamente 2 km il cateto 2 ah perché dico circa 2000 perché se poi se esce 2,01 2,02 1,99 approssimate perché tanto poi nei testi dei quiz troverete spesso anche un'approssimazione non ci sarà la seconda terza o quarta cifra decimale 340 metri al secondo per 8 secondi viceversa fa circa 2,7 km allora noi semplicemente ci dobbiamo trovare la distanza tra i due fulmini abbiamo già trovato qual è la relazione per trovarcela quindi l'ipotenusa o anche la distanza del segmento BC che è uguale a 2 al quadrato che è 4 più 2,7 al quadrato che si avvicina più a 9 3 per 3 9 2,7 al quadrato sarà sicuramente un numero compreso tra 4 e 9 però più vicino al 9 quindi facendo la somma di un numero 4 se io sommassi 4 più 9 13 13 è un numero comunque compreso tra 3 al quadrato e 4 al quadrato ma è comunque più vicino al 3 al quadrato in realtà si trova quasi a pari distanza e io a mente vi dico che è circa 3,4 km potete fare anche i calcoli con la calcolatrice ovviamente se le risposte sono 3,3 o 3,4 in un'altra vi dicono 5 in un'altra risposta C vi dicono 1 risposta D vi dicono 9 voi avete individuato la risposta esatta terza domanda che mi viene inviata Chiara è sicura di aver risposto in modo corretto a 42 domande quindi Chiara risponde correttamente a 42 domande su 60 correttamente a 42 domande su 60 domande per altre 6 non è del tutto sicura per altre 6 mettiamo così è insicura 12 non le ha messe perché non ha avuto tempo 12 non le ha messe che non le è abbassato il tempo non ce ne frega sapendo che per ogni risposta esatta vengono assegnate 1,5 quindi risposta esatta 2 punti si somma 1,5 per ogni risposta sbagliata vengono sottratti 0,40 punti punto risposta sbagliata meno 0,4 per ogni domanda senza risposta vengono dati 0 punti quindi nessuna risposta più 0 0 è l'invariante di raddizione quindi il punteggio non cambia quale potrebbe essere il punteggio massimo e quello minimo raggiunto da chiara beh qua è abbastanza facile il punteggio massimo è che nelle 6 dove è insicura le azzecca tutte cioè le 6 dove pensa di aver fatto bene o aver fatto male vanno tutte bene perché alle 12 noi siamo certi che a 12 non ha risposto su queste non ci possiamo fare nulla quindi al massimo che cosa ottiene ottiene 42 per un mezzo 42 le risposte esatte per un mezzo più 6 per un mezzo mettiamo possiamo mettere in evidenza un mezzo 42 più 6 è 48 e 48 per un mezzo fa 72 questa è la risposta massima risposta minima scusate non è la risposta è il punteggio massimo scusate sono un pochettino stanco allora ovviamente le 42 esatte queste non si toccano se le sbaglia tutte e 6 quelle dove è insicura questa volta li devo sottrarre per ognuna di esse 0,4 quindi meno 6 per 0,4 a questo punto non posso mettere in evidenza l'1,5 quindi 42 per 1,5 è 63 meno 6 per 0,4 anche qua potremmo appassimare però dai mettiamoci 6 per 4 24 è 2,4 quindi 63 meno 2,4 è 60,6 che è circa 61 ripeto a volte non ce ne mettono i cifri decimali quindi ovviamente se trovate la risposta 72 61 questa è la risposta esatta io volutamente non vi sto mettendo le risposte cioè ci sono queste risposte però per brevità siccome a noi poi ci interessano i calcoli io sto andando direttamente alla parte del ragionamento 4 vado a gruppi di 4 nelle domande che mi fate che mi state inviando perché non voglio fare dei video troppo lunghi e come avrete notato cerco di accorpare le domande per classi omogenee cioè metto le domande relative magari a questioni burocratiche insieme domande relative alla logica insieme domande relative alla metodologia didattica insieme così nel video io vi inserisco direttamente la commento che andrò a trattare e se è di vostro interesse voi ve l'ascoltate io penso che per chi deve fare la presa elettiva e se deve preparare il test quasi tutti gli argomenti trattati possono darvi un valore aggiunto anche perché quando comprate i libri non vi danno tante esplicazioni non vi approfondiscono la teoria e quindi secondo me non è la stessa cosa sicuramente il libro può essere utile per chi già sta parte da uno stadio avanzato per chi ha un po' d'ansia ha un po' di paura e non sa che direzione prendere sicuramente guardare questi video lo può aiutare domanda del test il costo totale di una gita scolastica con 27 partecipanti quindi il costo totale della gita lasciamo perdere scolastica così ci sbrighiamo con 27 persone persone prima più corto di partecipanti richiede una quota di 500 euro quindi diciamo costa 500 euro a persona vabbè cada uno scriviamo persona a persona punto una settimana prima della partenza due studenti decidono di non partecipare non ci frega quando due studenti dopo prima ancora che bisogna pagare decidono di non partecipare punto quanto dovranno ancora versare gli studenti per coprire le quote mancanti perché i due che decidono di non partecipare in questo caso sta dando per scontato che questi due non hanno versato nulla o se hanno versato i soldi gli vengono ritati insieme gli vengono ritati e quindi 27 persone ne rimangono 25 le 25 devono sopperire alle 1000 euro mancanti i due studenti che decidono di non partecipare quindi quanto dovranno ancora versare gli studenti per coprire le quote mancanti come possiamo dire velocemente quanto dovrà sborsare ognuno degli studenti rimasti se costa 500 euro a persona e sono 27 ovviamente bisogna fare 27 per 500 euro il che fa 13.500 euro ok questa è la quota da versare la quota che manca perché due studenti si ritirano non partecipano più è 1000 euro ma questa quota va divisa per coloro che sono mancanti quindi mi raccomando non fate 1000 diviso 27 ma è 1000 diviso 25 cioè viene divisa per coloro che vanno in gita quindi 1000 diviso 25 perché perché vi dico questo perché la persona che mi ha inviato la traccia mi ha detto ho avuto difficoltà e io l'ho risolto così è giusto tant'è che gli usciva ha diviso per 27 gli usciva 37.603 no non è giusto perché in questo caso devi dividere del 25 perché qua dice quanto dovrà sborsare ognuno degli studenti rimasto ma quanti ne sono rimasti 25 mica ne sono rimasti 27 quindi la risposta in questo caso era la risposta C 40 euro io con questo vi ringrazio ve lo dico sempre alla fine perché lo dico alle persone che sono interessate a questi video a questi materiali perché sono le persone per le quali io sto lavorando e quindi che cosa è che dico dico aiutatemi a far crescere il canale a condividerlo con le persone che desiderate possano essere dei colleghi che superano il concorso che pensate siano persone valide mettete mi piace condividete cercate pure voi di darmi una mano insomma anche perché se scrivete non solo che il video è bello che vi è piaciuto per carità ci sta pure che scrive che non gli è piaciuto ed è liberissimo di esprimere il proprio giudizio però se scrivete guarda io ho fatto così ho pensato eccetera eccetera cioè comincia a esserci un'interdipendenza positiva tra di noi commenti in cui voi vi esponete e dite la vostra secondo me è una cosa estremamente positiva questo è il mio auspicio questo è il mio augurio questo è quello che vi do a fare la mia esortazione con questo io vi saluto perché forse ho anche sforato i tempi vi auguro una buona prosecuzione di giornata alla prossima un caro saluto da Francesco Samani